In Calabria le imprese femminili superano quota 43.000, in provincia di Cosenza sono quasi 16.000, pari al 23,39% del totale, una componente importante del tessuto produttivo in crescita costante. Le cifre snocciolate alla Camera di Commercio fanno parte del rapporto sullo stato dell'economia femminile presentato in occasione della tappa conclusiva del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, iniziativa conclusa da Tiziana Pompei, vice segretario nazionale di Union Camere. Qui a Cosenza ho trovato un tessuto imprenditoriale femminile vivace. Illustrate anche le diverse misure a sostegno delle donne che fanno impresa. Ne abbiamo viste alcune, delle misure che il governo mette a disposizione specifiche per le imprese femminili, ma anche le donne ci mettono per fortuna un po' di passione e ci danno il loro contributo, indipendentemente dal contesto esterno, perché poi alla fine le imprese femminili continuano a nascere, continuano anche a consolidarsi. Il commercio e l'agricoltura sono i settori in cui si concentra il maggior numero delle attività in rosa, ma si registra una espansione anche in altri diversi ambiti. Le donne, come i giovani, sono molto propense a creare imprese. C'è tra l'altro un affacciarsi a dei settori che erano ritenuti prima maschili, le costruzioni, i trasporti, l'informatica, il terziario avanzato e qui si sta facendo largo l'imprenditoria femminile. L'altro dato è anche che sono molti ditte individuali e non di capitale, ma l'altro dato è importante che queste donne femminili sono di nostra nazionalità, quando invece il dato nazionale è superiore a quello con provenienza estera. Salvatore Bruno per la Cineus 24.